Gli italiani in vacanza spendono di più per il cibo che per l'alloggio, un sorpasso storico. I 24 milioni di italiani, in questa estate 2014, destinano alla tavola le cifre a record di 4,9 miliardi, secondo i dati dell'indagine col diretti XE sulle vacanze made in Italy nel piatto. Si tratta di quasi un terzo del budget complessivo destinato alle vacanze, mentre l'alloggio assorbe poco meno del 25%, seguito dalle spese per abbigliamento, calzature e da quelle per attività ricreative e per i trasporti. Lo storico sorpasso è dovuto al fatto che dall'inizio della crisi, nel 2007, la spesa turistica per l'alloggio in Italia è diminuita del 22%, per la tendenza ad accettare qualche stella in meno, a passare dall'albergo alla pensione o a forme alternative, come il bed and breakfast e l'agriturismo, ma soprattutto per il calo del costo degli affitti. Nello stesso arco di tempo per l'alimentazione, invece, si registra una crescita del 30%, per effetto del forte aumento dell'acquisto di prodotti agroalimentari a fronte di una diminuzione della spesa in ristoranti, pizzerie e bar. Il cibo è diventato il vero valore aggiunto della vacanza made in Italy nel tempo della crisi, che ha tuttavia cambiato profondamente anche le abitudini a tavola. Oltre la metà degli italiani in vacanza mangia in casa o da amici, mentre solo il 36% va a cena in ristoranti, trattorie e osterie, e il 6% negli agriturismi. E' quasi un italiano su 4, il 22%, torna dalle vacanze con prodotti tipici come souvenir.